Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi giocheremo a Stamboly Guys Come potete vedere C'è stato l'aggiornamento Di Spongebob E nel negozio sono uscite le ruote Come questa Che servono i crabbi fatti Bikini Potton Qui sono i salti girati Se altre cose Però noi oggi vogliamo giocare Quindi andiamo qua E prendiamo e clicchiamo Gioca Sta scegliendo la mappa Ok Questo scivolo gigante Tu sei il dragone Fuocato giusto? Ok Un trampolino E uno scivolo Gigante Perché è un po' Acquatico E' un po' pericoloso Con tanti ostacoli Vabbè si è andato direttamente Qua Sono anche le bombe No 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 per No non mi prendo Vabbè mi sono salvato C'è la lava Sotto è tutta lava Però c'è l'acqua qua Ah tu hai tagliato No Beh oggi diciamo che la fortuna ci assiste Un po' Beh ci sono altri personaggi davanti a noi Sì Sì Vabbè Disfruttiamo Siamo primi Bene Ci ha colpito una roccia Adesso L'amazza con gli spuntoni E Ancora non finisce No io non lo saprei proprio fare E' finito Ok Siamo qualificati Ci siamo qualificati Nei 16 Rimanenti Mamma mia Questo E' un ninja Mamma mia Pokémon C'è scritto I granchi Come potete vedere In spiaggia E con tante chele Ed è perfettato un aereo Addirittura Sì Sennò come siamo finiti qua Prima siamo usciti sulla L'ala Sì L'ala Quindi siamo in un'isola Deserta Ah quindi ci sono Alta e bassa marea Ecco Ma tu ti tuffi proprio Niente Adesso 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 Aspetta Sì E ci siamo qualificati Anche per il secondo round Ci siamo qualificati Tra gli ultimi 8 E lui emana sempre Quella luce Quello laggiù Sennò 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 Quindi adesso Siamo in questo Questa zattera Più o meno E cosa dobbiamo fare? Non ci dobbiamo far colpire Dagli squali che escono Dalla nave Ah ok E da quelle bombe Cioè non dobbiamo cadere Cioè dobbiamo stare Solo attenti praticamente Sì Ah e gli squali Vengono proprio lanciati Come dei missili Ed ecco che Giriamo Girovaghiamo Squali volanti Mamma mia E ne sono ancora amore Niente Siamo ancora tutti Non tutti Uno ci manca? Sì Caduto C'è la spatola Il drago Oddio Abbiamo perso Parte Un po' in ritardo Va bene Problema di connessione Spiriamo 50 50 15 Va bene Ora andiamo a fare il giro Di Bikini Bottom Bikini Bottom Tanti 15 5 Oh però è quasi completata Sì Andiamo a fare i giri gratis Vai 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 Speciale 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 Leggendaria No No Un gettone Vabbè Si può riprovare Certo Qui abbiamo il giro dei grappi patti E io non ho già 20 Quindi Un partito Un altro giro Vabbè con le leggendari Leggendario Leggendario Speciale Per poco Vabbè Continuiamo Un altro giro Sì Perché Un altro giro Un altro giro Ruta della fortuna Fortuna Della speciale Sì Dai 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 Vabbè 5 Siamo sempre vicino Ci dà ancora un altro giro Tra ruta Che non ci va a fare senza pubblicità Quindi Noi la facciamo Perché questa l'abbiamo acquistata E ci dà Un gettone Ah Vabbè Questo non è Un altro giro E ci dà Ci dà Adesso ci dà Una spi... E ci dà Magari Doppione Altri Capipatti Ultimo giro E poi Se volete Seguirci Sì 30 3 10 Iscrivetevi al canale Lasciate un like Attivate la campanellina E E dicevo Per un altro video Su StumbleGuys Seguiteci Anche su TikTok E Instagram Quindi Non ci basta che Salutarvi E al prossimo video di StumbleGuys